GF VIP7, Tavassi contro Antonella, il suo è che Donna Maria sia contro di noi. Dopo cinque mesi di convivenza forzata al grande fratello VIP7 non mancano delle tensioni, Edoardo Tavassi è tornato ad attaccare Antonella Fiordelisi. Secondo lui, l'influencer salernitano starebbe facendo di tutto per far litigare Edoardo Donna Maria con i suoi amici. Inoltre il concorrente romano è convinto che Fiordelisi stia compromettendo il percorso del suo partner pur di emergere all'interno del gioco. Gli scontri di sabato notte fra Edoardo Donna Maria e i suoi amici, hanno portato il giovane volto di Forum ad allontanarsi dai suoi amici. Edoardo Tavassi nel corso di una chiacchierata con Daniele Dal Moro ha lanciato una stoccata nei confronti di Antonella Fiordelisi, il suo sogno è che Edoardo Donna Maria sia contro di noi. Secondo il punto di vista del 38enne romano, la concorrente campana spesso accuserebbe il partner di atteggiamenti che in realtà vengono applicati da lei nei confronti degli altri, per esempio Antonella ha accusato Edoardo di avere intrapreso una frequentazione con lei solo per strategia. Tavassi sembra avere le idee chiare sull'atteggiamento di Fiordelisi, da quando io sto qui dentro lei ha affossato Edoardo per emergere. Successivamente il geffino si è detto sicuro che Antonella quando non riesce a discutere con gli altri compagni d'avventura. Litiga con Donna Maria in modo da far parlare di lei in puntata. A detta di Tavassi, il suo amico Donna Maria non riuscirebbe a stare lontano da Fiordelisi per questo motivo spesso preferisce non andare contro di lei, sa benissimo che se va contro Antonella, poi sta male di nuovo. Nel corso della festa di carnevale organizzata dagli autori, Matteo Diamante ha discusso animatamente con Oriana Marzoli e Luca Onestini. Successivamente Oriana ha discusso con Martina Nazoni. Edoardo Donna Maria nonostante non abbia assistito alla litera improverato Marzoli per il suo atteggiamento. A quel punto il gruppo degli spartani ha detto al giovane volto di forum di non parlare visto che non aveva assistito alla scena, già Ele ha fatto notare a Donna Maria che Oriana è stata definita una poco di buono. Dal momento che Edoardo non ha avuto un giudizio obiettivo, è stato invitato dai suoi amici ad abbandonare il cortiletto dove stavano parlando. Antonella Fiordelisi anziché aiutare il partner ad avere un chiarimento con i suoi amici. L'ha invitato a guardarsi meglio le spalle da chi lo circonda. Inoltre ha sostenuto che gli amici di Donna Maria non siano dei veri amici visto che che non hanno perso occasione per mandarlo via dopo aver espresso un parere fuori dal coro. Si zici ca stom ford, la cum ma comport, in treaba asta lui loc de comfort, ricord si omor tot. Sunt un crucișetor, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se usa de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper, baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suna-o pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o sa ma aus prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor. Ca stii ca dupa trimit ciocan umane, inspre cer si dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos patescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambitie, traditie, asta m-a dus cu rapul, decat mai toti ziceau.